Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi quarto episodio del format delle migliori edizioni manga italiane. Come sempre andremo a vedere 5 titoli che ho inserito, mi raccomando fatemi sapere anche nei commenti quali sono secondo voi le migliori edizioni manga italiane, così anche da poterle aggiungere nei prossimi episodi. Questo format infatti è un po' più interattivo rispetto agli altri, anche in questo video andremo a vedere alcune edizioni che sono state anche consigliate da voi. Però possiamo partire subito dalla prima? Abbiamo la Deluxe Edition dei Cortini del Cuore di Ayazawa, la sua nuovissima nuova edizione che a mio parere è davvero spettacolare, come tutte anche le altre nuove edizioni per quanto riguarda questa mangaka. I Cortini del Cuore è completo in 4 volumi, è praticamente una 2 in 1, l'effetto è tutto davvero a mio parere stupendo, la copertina, anche il retro copertina appare in questo effetto ruvido. E la cosa bella per come succede anche negli altri volumi è che tutte le copertine e anche il retro copertina di questa Deluxe Edition sono state ridisegnate da Ayazawa. Infatti questa cosa è successa anche per la nuova edizione di Non Solo un Angelo e per anche la Complete Edition di Paradise Kiss. Vi mostro anche velocemente le copertine degli altri volumi, vedete sono tutte ridisegnate. Anche quella del 3 e anche quella del 4, anche sotto la sovracopertina troviamo nuovi disegni per quanto riguarda l'autrice, troviamo anche una bella stesura per quanto riguarda anche tutto il font. L'edizione poi secondo me ha un bellissimo gioco di colori e anche esposta in libreria fa quella che è la sua gran figura. All'interno dell'edizione troviamo una grandissima qualità, soprattutto per la risoluzione dei disegni di Ayazawa. Troviamo una carta bianchissima, troviamo diverse pagine a colori, ne troviamo diverse per ogni volume e ogni volta che si passa un nuovo capitolo troviamo almeno delle pagine a colori. Cosa che sicuramente rende ancora più bella e ancora più apprezzabile questa Deluxe Edition dei Cortili del Cuore. All'interno troviamo circa 30 pagine a colori infatti, contando che è una 2 in 1 quindi il prezzo è 6,25€ per ogni volume. Direi che anche il rapporto qualità prezzo è ottimo. Altra cosa che apprezzo tantissimo di questa Deluxe Edition è che viene sempre riportata a una gallerie ufficiale a colori dei Cortili del Cuore, sempre per ogni volume, in cui vengono inserite le illustrazioni inedite proprio dell'opera che per ora non erano state riportate nelle precedenti edizioni. E anche in questo caso abbiamo una decina di pagine a colori. Edizione a mio parere stupenda per la sua composizione e per tutti i piccoli dettagli che sono stati riportati, quindi non poteva assolutamente mancare nel video delle migliori edizioni italiane. E sempre restando in tema di nuove edizioni ne abbiamo una abbastanza recente, infatti iniziata nel 2022 vi sto parlando della nuova edizione Canseban di 20th Century Boys. Eccola qui come si presenta nel suo primo volume, prezzo di 14,90€ per ogni volume, edizione che è ancora in corso qui in Italia. L'ho sempre apprezzata moltissimo, sono tanti gli effetti in rilievo che ci vengono presentati, sia sulla copertina principale, sul retrocopertina, ma tutta l'edizione in generale presenta effetti in rilievo, che ovviamente fanno risaltare quella che è l'estetica dell'edizione. Per quanto riguarda questo punto di vista, alcune persone si sono un po' lamentate perché hanno riscontrato degli effetti di scollatura. Io per ora non ho trovato questo tipo di difetti per quanto riguarda l'edizione, sicuramente non va a rovinare quella che è la lettura. Edizione che si ispira perfettamente alla Perfect Edition, anche il giapponese, anche alla Perfect Edition uscita in America. Bello anche che viene riportato ogni volta per ogni nuovo volume. Delle frasi che sono molto significative per quanto riguarda il manga, che vengono presentate sia in italiano, sia per quanto riguarda la parte inglese. Edizione che aggiunge anche dei particolari che nella precedente edizione non erano stati riportati. Poi all'interno troviamo altre scritte per quanto riguarda il rilievo, sia 20th Century Boys. Troviamo la prima pagina a colori su carta patinata e anche all'interno del volume troviamo quelle che sono diverse pagine a colori. In questo caso ne abbiamo davvero tante. Quella di 20th Century Boys credo che tra le nuove edizioni italiane che sono state presentate negli ultimi anni, è quella che presenta più pagine in assoluto a colori. Vi faccio vedere qualche altro tipo di esempio, il prezzo come ho detto è 14,90€, l'edizione è ovviamente una 2 in 1, quindi praticamente si paga 7,50€ per ogni volume. Anzi, qualcosina e meno, secondo me è un prezzo più che giusto. Se ne è parlato più volte di questa nuova edizione, avevo fatto anche un video quando era uscito il primo volume di analisi e pareri, io l'ho sempre trovata un'edizione davvero buona. È assolutamente l'edizione in cui si riesce più a godere l'opera al 100% anche per il diverso formato che ci viene presentato rispetto alla precedente edizione. Qua troviamo ovviamente un formato più grande che si sposa perfettamente ai disegni di Urasawa e ce li fa apprezzare in ogni minimo dettaglio. Mentre invece per quanto riguarda la terza edizione di questo video ne abbiamo una standard. Vi sto parlando di quella di Land of the Lastros, presentata da J-Pop, edizione che mi è sempre tantissimo piaciuta per il suo effetto. Guardate qui come viene presentata tutto questo effetto brillantinoso, sbrillucicante. La rende esteticamente una delle edizioni standard, a mio parere, più belle degli ultimi anni. Viene presentata per tutta la sovracopertina, anche per la costina. Come potete vedere, il manga presenta pagine a colori al suo interno, su carta patinata. Questa è una cosa che non si vede spesso per quanto riguarda un'edizione standard, contando che ogni volume costa 7,50€. In questo caso invece troviamo 5 pagine a colori su carta patinata. Poi è proprio il volume da avere una grandissima morbidezza, avere una grandissima carta bianca che ti fa apprezzare al massimo i disegni per quanto riguarda Land of the Lastros. Perché serve quello che è una grande risoluzione per vedere il contrasto tra nero e bianco, che è fondamentale per l'opera. Vi mostro magari qualche tipo di esempio. Se vi è in questo caso una qualità di carta molto alta per far risaltare i disegni. Interessante anche sempre il dettaglio per quanto riguarda sotto la sovracopertina. Infatti troveremo sempre personaggi con delle espressioni differenti. Ad esempio nel primo volume troviamo il protagonista principale che sorride, mentre invece sotto la sovracopertina lo troviamo invece spaisato. Questa cosa che succede anche negli altri volumi. Vi mostro magari il volume numero 2, sempre espressioni diverse. Sono anche queste delle piccolezze che però in qualche modo riescono a combaciare per quanto riguarda la storia e io le apprezzo moltissimo ogni volta che vengono inserite. Non ho moltissimo da aggiungere, semplicemente una bellissima edizione standard. Mentre invece per quanto riguarda le ultime due edizioni abbiamo due manga shoujo. La prima è un'altra edizione standard. Vi sto parlando di quella di Georgie di Magic Press. Georgie manga iconico per quanto riguarda lo shoujo dell'80. L'edizione che ci venne proposta in questo caso da Magic Press l'ho sempre trovata fenomenale. Un po' come quella di RG Veda delle Clamp. Magic Press in quegli anni riusciva a presentarci delle edizioni di grandissima qualità. Questa è una ristampa che è del 2017. Ma l'edizione comunque che si era già stata presentata al tempo nel 2009 da Magic Press era questa. All'interno troviamo una grande qualità. Troviamo un'edizione morbidissima. Vi mostro magari quelli che sono i quattro volumi della serie. Anche la costina è molto elegante. La sovracopertina è ottima e ho sempre apprezzato anche le alette dell'edizione. In cui ci vengono presentate quelle che sono delle illustrazioni con i vari personaggi. All'interno poi troviamo tantissime pagine a colori. Ad esempio in questo primo volume troviamo il primo capitolo che si compone almeno di 10 pagine che sono tutte a colori. E andando avanti anche nel volume troviamo diverse rappresentazioni, diverse illustrazioni a colori che aggiungono bellezza all'edizione. Guardate qui un altro esempio. Anche per quanto riguarda i disegni. Di Yumiko e Garashi vengono ben rappresentati da questa edizione data alla sua grande qualità di carta e non si perde nessun tipo di dettaglio. Il costo di questa edizione è solamente 5,90€. Edizione che riesce a presentare quella che è una qualità molto più alta rispetto a tantissimi standard. Morbida, anche per niente sottile, si sfoglia che è un piacere. Condita da meravigliose pagine a colori. Quella di Giorgi secondo me resterà sempre una delle migliori edizioni standard per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. E lo stesso discorso può valere invece per la prossima che è una nuova edizione. Vi sto parlando di quella di Saint Tale. Nuova edizione proposta proprio da Star Comics quest'anno. Manga che era stato inizialmente pubblicato sulla rivista Amici proprio di Star Comics ormai tantissimi anni fa. Questa edizione è una 2 in 1. Sono 4 volumi in totale e il prezzo è di 8€ per ogni volume. Praticamente si pagano 4€. Dato appunto che è un'edizione Perfect Edition. Ma guardate qui tutti i dettagli che vengono presentati. Tutti quelli dorati li troviamo appunto nella copertina, nella costina, nel retro copertina. Li troviamo in tutta la composizione, anche addirittura il logo Star Comics è in oro. Già solamente l'estetica dell'edizione di Saint Tale a mio parere è fenomenale. Ma Star Comics vorrà fare un qualcosa in più. Infatti ci mette dentro delle pagine a colori su carta patinata. In cui vengono rappresentati quelli che erano tutti frontespizzi quando appunto Saint Tale uscì sulla rivista Nakayoshi. Abbiamo quindi per ogni volume una sorta di mini gallery. Il volume dato che è una 2 in 1 è abbastanza spesso ma è la morbidezza che regna da padrone qui. Guardate infatti dal video quanto è morbida questa edizione, questo anche alla sua carta che è molto fine. La qualità di carta lo ammetto, non è ovviamente la più alta ma contando che 8€ è la qualità prezzo quindi importante. Comunque non è un tipo di carta scadente ma si avvicina anche molto a quello di altre nuove edizioni. Per farvi intendere è molto simile a quello della nuova edizione di Proteggi la mia terra. A mio parere Star Comics presentandoci questa edizione di Saint Tale si è davvero superata. Edizione molto elegante per tutta la sua composizione, per l'estetica generale. Riesce a presentarci una buonissima qualità per il prezzo a cui è stata messa sul mercato. Io spero che in futuro Star Comics ci presenti altre edizioni così, spero che anche quella di Miracle Girls sia appunto su quest'onda. Sono le edizioni che più in assoluto io apprezzo quindi complimenti a questa casa editrice. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti altre edizioni da mettere nei prossimi video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.